ciao e benvenuti in un nuovo video in questo video vi parlo di come curare una pharenopsis cioè quali sono le cure essenziali innanzitutto hanno bisogno di tanta luce quindi bisogna posizionarli davanti a una finestra ma attenzione al sole diretto come in questo caso se ci fosse sole diretto bisogna schermare il tutto con una tenda perché il sole diretto soprattutto nelle ore centrali del giorno può provocare delle bruciature sulle foglie e anche comunque sull'intera pianta altra cosa fondamentale sono le annaffiature si annaffia solo quando le radici sono colore argento il substrato asciutto in questo caso questa è una mini pharenopsis il substrato è sfagno quindi vado ad annaffiare solo quando le radici sono colore argento e lo sfagno asciutto mentre per quanto riguarda le pharenopsis che hanno come substrato bark vado sempre ad annaffiare quando le radici sono colore argento come in questo caso come potete ben vedere e il substrato completamente asciutto come annaffio ragazze io preferisco l'annaffiatura a bordo vaso però per quanto riguarda le mini mini annaffio per immersione in questo periodo dove le temperature sono basse utilizzo ovviamente acqua tiepida mi raccomando metto un pochino di acqua nel portavaso ed inserisco la piantina per qualche minuto e poi fatto scolare il tutto mentre per quanto riguarda le orchidee più grandi io preferisco l'annaffiatura a bordo vaso facendo attenzione a non mandare acqua nel colletto delle foglie e se dovesse capitare bisogna asciugare rapidamente altrimenti le foglie poi andrebbero a marcire e senza foglie come ben sappiamo una pianta non può sopravvivere ecco qui basta pochissima acqua che le radici tornano ad essere di un bel color verde brillante faccio la stessa cosa anche per le grandi vedete qui le radici sono colore argento il bar che è asciutto e procedo sempre con un'annaffiatura a bordo vaso non serve tantissima acqua quando vedete che le radici cominciano a tornare di un bel verde brillante basta comunque fate scolare sempre il tutto e poi riposizionate l'orchidea davanti la finestra ecco qui questa foto parla da sola quando si annaffia e quando non si annaffia fate attenzione alle annaffiature perché provocano marciumi alle radici un altro fattore importante è la concimazione si concima ogni tre annaffiature e si concima tutto l'anno anche quando la pianta è in fiore perché me lo chiedete spesso io utilizzo un concimo in grani in particolar modo questo qui è di evo plant è un concimo bilanciato 20 20 20 e mi è stato gentilmente omaggiato dall'azienda questo tipo di concime va sciolto un grammo per ogni litro d'acqua utilizzo sempre acqua tiepida in questo periodo e ricordate sempre prima di concimare di annaffiare con solo acqua e poi procedere dopo qualche secondo con acqua concimata in questo modo non rischiate che le radici brucino fate attenzione altra cosa fondamentale per la cura delle falenopsis è la temperatura e l'umidità l'umidità deve essere sempre intorno al 50 60 per cento e la temperatura sempre al di sopra dei 17 gradi quindi mai al di sotto se il video vi è piaciuto ragazze lasciate un like un commento e ci vediamo al prossimo video ciao ciao